I musicisti, abbiamo Roberto Chessi alla batteria, Roberto Mercuria nel contrabbasso, Alberto Mi ringrazio ragazzo per essere venuti, siamo veramente molto tra noi, mi fa piacere che siamo qui, in una situazione molto familiare, abbiamo anche degli ospiti dall'estero, dalla Francia Va bene, questo primo pezzo si chiama Bye Bye Blackwood, proseguiamo con altri pezzi, il prossimo si chiama Out of Nowhere Grazie a tutti 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 Grazie a tutti